Una variazione di bilancio di circa un milione di euro da destinare all'Ara, l'associazione regionale allevatori, cui dipendenti sono da 33 mesi senza stipendio, e al consorzio di bonifica Sud Vasto, sull'orlo della bancarutta. Questi due dei risultati concreti portati a casa nel Consiglio regionale di ieri, connotato però da polemiche e ancora una volta da una maggioranza traballante per le assenze e per i malumori che covano in modo crescente sotto la cenere. Le polemiche sono state messe in scena con tanto districioni dall'opposizione del Movimento 5 Stelle del centrodestra. Il motivo è il piano sanitario regionale, che disegna la sede ospedaliera e che è stato ieri approvato in giunta regionale. Nonostante ha tornato però l'opposizione, la settimana scorsa il Consiglio regionale aveva votato una risoluzione che chiedeva il ritiro e la modifica di questo piano. Per opposizione si è dunque trattato di un colpo di mano inaccettabile, di un'umiliazione delle prerogative del Consiglio. Ma le fibrillazioni non sono mancate anche in maggioranza con l'assessore Donato Di Matteo che ha duramente stigmatizzato le assenze nel centro-sinistra, in particolare quelle di Pierpaolo Pietrucci e per buona parte della seduta di Lucrezio Paolini. E soprattutto del presidente della regione Luciano D'Alfonso, che non ha neanche preseduto l'aggiunta che ha approvato il piano sostituito dal vice Giovanni Lolli. Altro passaggio molto caldo, quello che ha visto protagonista Leandro Bracco, ex crilino e ora di sinistra italiana, secondo il quale il provvedimento che dà soldi all'Ara non ha copertura economica e sarà sicuramente impugnato e bocciato dalla Corte Costituzionale. Smentito però con durezza dall'assessore al bilancio Silvio Paolucci. Nonostante i numeri risicati è passata comunque, a fine seduta e a tarda ora, anche la legge europea regionale 2016, la modifica del piano regionale per il diritto agli studi universitari, e la destinazione dell'avanzo di amministrazione del bilancio del Consiglio regionale per l'assessamento generale dei conti. Nulla di fatto, ancora una volta, per la nomina del garante dei detenuti, una partita che si trascina oramai da mesi. Occorrono infatti due terzi dei voti del Consiglio, pur utopia con i tempi che corrono all'emiciclo.